E' nel passato che si c'erano i segreti che ci vanno grandi a tutti. Io cerco nel passato la salvezza per il futuro. Nel passato è scritto tutto. Il bene e il male. Cercare e interpretare ogni mio passo, ogni mio spostamento è calcolato. Nulla è lasciato al caso. Intelligenza, forza, distrenza, intuito sempre allerta. Ci vuole determinazione tra arriva e crimini e vincere. Io fui donna che si oppose alla legge del re, preonte, che decretò la sola il suo potere in nome di tutti. Se la bomba si aprirà, il vestito di noi. Noi tutti muterà. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info di un tempio sulle mie membra di verità di polvere, come la polvere delle rocce cave in cui mi rinchiusero, come la polvere delle rocce che si spianano per innalzare le colonne di un tempio. E come un tempio io non morì mai, io fui Antigone. È questa, l'Antigone che ti porterà i bottelli, Lara Croft. Grazie. 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 Grazie.